Il mio amico è scappato, è vinto, è battito dietro la confia, non c'è più nessuno, solo attività, silenzio e fughi, poi da mangiare, poi da seccare, da facci su quando è natale, quando le famiglie che amano, e a dormire non ci vogliono mandare. Ciao a tutti, buonasera, qui lo spero, questa sera abbiamo il Minimed, una bella in livello, musica italiana e italiana, chiusa a non stop.